Gli esperti parlano della settimana più calda dell'estate ed è stato sufficiente questa settimana aprire le finestre per averne conferma. Già nelle prime ore della mattinata la colonnina di Mercurio si è avvicinata ai 30 gradi, superandoli abbondantemente nel corso della giornata. Temperature al di sopra della media stagionale con valori intorno ai 35 gradi, ma in alcune località si sono sfiorati anche i 38. L'intensa ondata di caldo durerà almeno fino al primo weekend di agosto e chi spera di trovare un po' di refrigerio alla sera dovrà rassegnarsi perché i valori faticheranno a scendere sotto i 25 gradi. E alla luce delle previsioni contenute nel bollettino del disagio fisico e della qualità dell'aria per la regione del Veneto emesso da ARPAV è stato dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico da oggi fino al 2 agosto per le zone costiere, pianeggiante continentale, pedemontane e montana del Veneto. Di conseguenza l'assessore alla sanità ha disposto l'attivazione immediata delle particolari forme di organizzazione assistenziale rivolte particolarmente ad anziani portatori di malattie croniche, respiratorie o comunque a rischio. È attivo anche il numero verde 800462340 realizzato con la collaborazione del servizio telesoccorso e telecontrollo. La marca trevigiana rimane tra le province più incandescenti del Veneto e se al momento non si registrano particolari criticità nei pronto soccorsi nonostante sia tutto pronto in caso di un aumento degli accessi rimangono sempre valide le raccomandazioni rivolte in particolar modo ad anziani e bambini come bere molto, assumere molta frutta e verdura e soprattutto non esporsi nelle ore più calde della giornata, non esporsi direttamente al sole e poi soprattutto per le persone più anziani e per i bambini più piccoli ecco fare particolare attenzione.